E' pronto zianuccia? Non so se ti ricordi di me, sono India. La figlia di Marcello? Eh sì, zia, come stai? Oh, che piacere, bene. Scusa il disturbo, ma sul cellulare di mio padre risponde alla segreteria. Me lo passi? Chi lufo dondona ha detto che mi veniva a trovare, ma poi è scomparso. Vuoi dire che non è venuto da te? Sì, è venuto qua sotto, con una biond. Se l'ha portato pure i mobili, io ho aspettato e lui non è più salito. E da loro non si è visti più. Ma sei sicura? Gerardo! E non si apre il portone? Eh, ti sei addormentato. Quando mai? Aspettavo che entravi, no? Senti, dimmi la verità, non è andato a lavorare a Salerno, vero? Ma chi? Quel bastardo di mio padre! Ah, certo che sì, il lavoro gliel'ho procurato io. E allora ha unito l'utile al dilettevole perché è andato con una bionda. E poi non lo pagano, e li vuole da me. Ma stavolta non mi frega, io lo vado a prendere a Salerno. E ti ci porto io. Veramente? Ah, un 99,99%. Per tra 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 Grazie.